Il settore lavori pubblici augura a tutta la città buon Natale e buone feste. Auguri! Ai servizi demografici, tantissimi auguri a tutti i cittadini pavesi. Auguri! Tanti auguri di buon Natale a tutti i pavesi. L'Ufficio Assicurazioni, l'Ufficio Contratti e l'Ufficio Protocollo augurano a tutti buone feste. Auguri! Un augurio di cuore di buon Natale a tutti i pavesi e in particolar modo a tutti i nostri spettatori. Auguri! Auguri! Servizi sociali del Comune di Pavia augurano tanti auguri di buone feste a tutti i cittadini della nostra città. Auguri! Auguri di buon Natale e felice anno nuovo! Con i migliori auguri da parte del Settore Cultura del Comune di Pavia. Auguri! Buone feste! Buone feste a tutti! Auguri! La Direzione Generale del Comune di Pavia e la Presidenza del Comune di Pavia augurano a tutti i cittadini pavesi un buon Natale e un felice anno nuovo! Auguri! Un augurio di buon Natale e di un felice fine anno e un ottimo 2011 a tutti i cittadini pavesi. Auguro buone feste, buon Santo Natale e ci vediamo al prossimo anno! Tanti auguri a tutti i cittadini pavesi di buone feste e un felice anno nuovo! A tutti i cittadini di Pavia, a nome dell'amministrazione comunale della nostra città, i migliori auguri per un buon Natale e uno splendido anno 2011! Auguri!